L'attesa è finita, data della primo turno della fase nazionale play-off, la Virtus Verona, rivelazione del girone a sfida il Pescara, nel girone di ritorno gli scaligeri hanno innestato il turbo da fine gennaio in poi, 12 successi, 4 pareggi, un solo, K.O. 4-3-1-2, Alfredson parte dalla penchina, centrocampo il Play e Lonardi, tra le linee Danti alle spalle di Fabbro e Juanito Gomez, 38 anni, il prossimo 20 maggio, un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Pescara col consueto e collaudato, 4-3-3, tre cambi rispetto a Picerno, ultima partita lo scorso 23 aprile, ritorno tre pali di Pizzari sarà tra i protagonisti, Cancellotti preferito a Crescenzi e Raffià dal primo minuto, davanti conferma per Marco Delle Mona che è altro protagonista della partita, l'autore di una doppietta ma parte forte, la Virtus Verona, ritmo aggressività, il cross dalla destra, anzi dalla sinistra di Fabbro, poi c'è la sponda di Talarico per la conclusione di Tronchin, si oppone il portiere Pizzari, poi ancora Virtus Verona, ventesimo minuto, Tronchin se ne va sulla destra, salta delle monache, il cross, il colpo di testa in abitamento di Juanito Gomez, la palla sfiora la traversa ma era sulla traiettoria, il stavo difensore Biancazzurro, ventesimo minuto dunque ha fatto meglio la Virtus, c'era anche un'azione che non viene messa nella sintesi proprio all'inizio della partita con una conclusione di Lonardi a fil di palo, attenzione il gol del Pescara al primo a fondo, se lo inventa letteralmente Marco Delle Mona che è la transizione, in transizione devastante, doppio passo, poi cambia, o meglio fa effetto alla finta, elude il suo avversario, e poi un gran destro che si infila all'angolino basso, nulla da fare per il portiere della Virtus Verona, Giacomella, guardate, c'è questa azione, il doppio passo, poi c'è ancora questa conclusione, che la rivediamo, la rimediamo, di Marco Delle Mona che nulla da fare per Giacomella, questo è il terzo gol, o meglio il quinto in campionato Coppa Italia compresa per Marco Delle Mona che va ad esultare sotto la curva, erano presenti 293 tifosi biancazzurri sotto appunto il settore occupato dalla tifoseria pescarese. Poi, vediamo, quarantatresimo, c'è questa conclusione di Tronchin nella rete del pareggio di Danti, Domenico Danti che è il capitano della Virtus Verona sugli sviluppi di una rimessa laterale, rimane a guardare un po' troppo la difesa del Pescara, un po' molle, troppo rilassata, diciamo così, sullo scarico che c'è stato di Fabbro, che è stato un giocatore molto prezioso per la squadra di Fresco, guardate lo scarico, la conclusione di Tronchin si oppone, fa quel che può naturalmente Pizzari, che poi riesce anche a deviare il tapin del numero 10 Domenico Danti che segna a distanza di 14 anni ancora al Pescara, in quell'occasione 2009-2010 indossava la maglia del Cosenza, pareggio dunque della Virtus Verona a fine primo tempo, un primo tempo complicato soprattutto all'inizio per il Pescara, per il ritmo, l'aggressività, per l'intraprendenza della squadra di casa, Alfredson al posto di Lonardi, settantesimo, parte il calcio di punizione, la rispetta di Pizzari, poi Fabbro, altro intervento incredibile di Pizzari, attenzione, c'è poi Casarotto, ancora molto troppo morbida, troppo leggera la difesa, il suo sinistro non vede neanche partire il tiro, Pizzari che viene freddato sul primo palo, non riesce neanche ad abbozzare l'intervento, l'estremo difensore Biancazzurro, ci sono troppi uomini davanti a lui e dunque Casarotto porta in vantaggio la Virtus Verona, aveva da poco preso il posto del suo compagno di squadra Gomez, rivediamo ancora lo sviluppo di questa azione, la dinamica con Casarotto che controlla, troppo morbida la difesa del Pescara, troppo leggera proprio nel contrasto che di fatto non c'è stato il sinistro di Casarotto, classe 98 lo scorso anno, 43 gol in eccellenza Veneta con il Montecchio, squadra Vicentina, Casarotto maglia numero 90, questo è il quarto gol in campionato con la Virtus Verona, alla prima esperienza tra i professionisti, dunque cambia tutto a Verona, Virtus in vantaggio per 2-1, 72esimo entrano diversi giocatori nel Pescara, cambia tutti e tre, i giocatori del centrocampo, anche all'ottantatresimo esce Raffià, insomma non ha avuto un buon impatto, anzi tutt'altro sul match, qui vediamo che Lescano viene anticipato da un difensore ma l'arbitro non concede il calcio d'angolo che c'era e questa è l'azione del 2-2, molto bella perché si apre la Virtus e ne approfitta la Pescara, lo scarico di Lescano, poi la verticalizzazione Merola, l'assist bellissimo, sontuoso per Delemonache che si fa trovare pronto al posto giusto, nel momento giusto all'altezza del secondo palo, spinge il pallone in porta, praticamente porta vuota, porta sguarnita, la doppietta per Marco Delemonache, guardate, Delemonache non era in posizione di fuorigioco, anche se ci sono state le proteste dei giocatori della Pescara, l'azione è stata molto bella, come si è aperta un po' la Virtus Verona proprio nel finale di gara all'ottantesimo, il Pescara ha trovato il gol della pareggio, doppietta personale per Delemonache, 6 gol in totale in questa stagione, 2 in campionato, 2 nei play-off alla prima partita e 2 in Coppa Italia contro la Vis Pesaro, lo scorso mese di ottobre, partita finita 6-0 l'Adriatico Giovanni Cornacchia, siamo all'ottantatresimo, ci sono ancora questi attacchi, la palla viene rinviata da Brosco sulla mano, sul braccio, se non vado errato di Milani, ci sono le proteste della formazione di casa, anzi di Aloi, era Aloi, ma l'arbitro ha lasciato proseguire, l'arbitro ha lasciato proseguire, beimenti le proteste della squadra di Luigi Fresco, poi il colpo di testa liberare l'area, attenzione perché c'è un altro episodio con questo tentativo del Pescara e Colai che viene steso da Tronchin che era già stato ammonito nel primo tempo, avrebbe comunque saltato perché diffidato il match di ritorno in programma lunedì, viene espulso, doppia munizione, la Virtus Verona in 10 uomini nei minuti finali della partita, ma siamo già al novantesimo, saranno 4-5 minuti di recupero, guardate il ritardo, Tronchin su Colai che aveva preso il posto di Delle Monache, novantesimo minuto, dunque espulso Tronchin, ammonito nel primo tempo, secondo giallo, Virtus Verona in 10 uomini, l'arbitro della contesa, lo ricordiamo, è il signor Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, dopo 5 minuti di recupero, il triplice fischio, Virtus Verona 2, Pescara 2, lunedì prossimo l'Adriatico Giovanni Cornacchia, ore 20 e 30, il match di ritorno al Pescara, basterà il pareggio al novantesimo, non sono previsti i tempi supplementari, per superare dunque il turno basterà il pari. Alla squadra di Zeman.